Sono Barbara Tagliaferri di Deloitte. Quello che oggi rappresenterò qui è il ruolo che le art tech possono avere nel settore arte-finanza. Un settore che deve combinare la necessità di trasparenza del mondo finanziario, quindi regolamentato e guidato da diverse normative, e un mondo opaco che è quello dell'arte. La tecnologia, quindi le art tech e le start-up possono veramente fare la differenza in questo settore, in questo ambito.